come funziona regà quando ho bisogno che dà il buongiorno ma non c'è niente di buono ieri sono stato a Milano, lo sapete, ero al calciomercato, torno a casa con sta faccia vado al mercato con sta faccia perché dopo che la Roma perde una partita 7 a 1 7 a 1, 7 a 1 in campionato in Coppa Italia contro la squadra italiana 7 a 1 contro una squadra che per giocatori ti è inferiore 7 a 1, 7 a 1 io non posso vedere il direttore sportivo anzi il presidente dire Moncici ha carta bianca il direttore sportivo dire Di Francesco non si tocca e non faremo mercato e non faremo mercato io ieri ho fatto un video in cui mi incazzò per questi due combo che mi sembravano tanto a presa di culo ragazzi per i tifosi della Roma veramente a presa di culo ho aspettato l'intera giornata è passato il 31 è finito il mercato e la Roma non ha comprato nessuno zero gli acquisti della Roma sono stati zero allora io non sono uno di quelli che vuole gli acquisti sempre è evidente è evidente che la Roma è in difficoltà ragazzi oltre Manolas dietro non c'è nessuno Fazio è diventato scarso Marcano lo è sempre stato e Jesus è mediocre ok abbiamo tre centrali che non sono adatti per giocare nessuna competizione che possono fare i rincalzi che possono giocare quando c'è turnover Fazio può giocare contro gli attacchi lenti in culo ma ormai nel 2019 tutti gli attacchi sono abbastanza veloci e hai solo Manolas e hai solo Manolas al sinistra hai venduto anche Luca Pellegrini adesso c'hai Kolarov che non c'ha voglia di giocare perché ragazzi è evidente che Kolarov non abbia voglia Kolarov non ha voglia di giocare Kolarov non ha voglia di giocare si vede è palese è palese e poi c'è Santon come vice di Kolarov dall'altra parte dall'altra parte abbiamo Florenzi che non è un terzino che abbiamo impippito abbiamo fatto diventare una pippa Florenzi a forza di fare il terzino poveraccio che ha delle qualità offensive mi fa ridere eh Florenzi come terzino è buono peccato che non si addifende che deve fare un terzino? che cazzo deve fare un terzino? allora fai gli fare l'ala fai gli fare l'esterno non gli fa fare il terzino non si addifende e poi c'è Karsdorp mister 20 milioni di euro Karsdorp che si incazza con Di Francesco perché non lo mette al Bernabeu dopo che è stato rotto un anno e mezzo vabbè poi al centrocampo abbiamo quella bellissima fantastica accozzaia dei giocatori un mediano un trequartista una mezzala una seconda punta che vanno a comporre il centrocampo della Roma a cazzo totalmente a caso raga totalmente totalmente a caso totalmente a caso perché c'hai Inzonzi che è un mediano perché c'hai Pellegrini che è una mezzala che fa giocare a trequartista perché c'hai Zaniolo che è una mezzala che fa giocare a trequartista perché c'hai Cristante che è un incursionista che lo fa giocare a mediano davanti alla difesa De Rossi è rotto Cioric probabilmente è morto spiegatemi perché nessuno ha deciso di prestare Cioric forse si è impuntato lui non lo so ragazzi ma Cioric non gioca manco per sbaglio cioè ha giocato una partita perché stava a perdere tre a zero cioè poi queste cose di Franceschi io ne capisco stai a perdere una partita tre a zero ma che metti Cioric ma metti quando vinci tipo quattro a zero col Frosinone boh vabbè poi davanti ragazzi c'è la rinna abbiamo la ricchezza davanti abbiamo El Sharawi che è discontinuo da un minuto ad un altro adesso è discontinuo adesso è continuo adesso è discontinuo adesso è continuo Perotti che gioca con i cani ormai ragazzi Perotti gioca con i cani che fai ciao Diego come va oggi tutto bene e tu bene che fai questa che lavoro stai facendo sto giocando con i miei cani io regalo veramente Undera e Klaivert che io voglio dire sono giovani sono giovani Undera adesso cioè vi rendete conto l'azzo che siamo passati l'anno scorso io ho fatto un video su Undera prendendolo per il culo per il nome dicendo che comunque sarebbe potuto esplodere quest'anno Undera e l'essero più forte che abbiamo l'ala più forte che abbiamo ragazzi è Cengiz Undera è una svalutazione totale questa è una svalutazione totale tu arrivi a ma poi la cosa che mi fa ridere è che tu arrivi a gennaio anzi arrivi l'ultima partita di dicembre che Di Francesco dice sono contento perché abbiamo ripreso in mano la situazione siamo vicini alla Champions adesso compriamo perché ne abbiamo bisogno e la Roma non compra nessuno e se la Roma non compra nessuno è colpa di Di Francesco a me mi dispiace dirlo ma è colpa di Di Francesco perché se tu sei un allenatore con le palle ti fai sentire ok perché mi fa ridere ma che colpa ne ha Di Francesco si vuole fare un 4-3-3 gli hanno comprato tre trequartisti due mediani un incursionista e un morto no c'è colpa perché non è che arriva Pastore che ha un trequartista e tu vabbè ma lo metteremo mezzala Cristante che è un incursionista e tu vabbè ma lo metteremo mezzala cioè non esiste Zonzic ha un mediano e tu vabbè ma lo metteremo mezzala ma allora mettiti a pecora cioè non esiste sei l'allenatore prendi per le reti in sta caso di situazione ok e fatti sentire sei un noll'allenatore ce l'avrai un po' di palle sotto quei pantaloni dentro quei pantaloni ce l'avrai un po' di palle un po' di testicoli ce l'avrai e allora non possiamo dire ma poverino ma a Di Francesco gli hanno smontato la squadra se tu sei un allenatore come si deve non te la smontano la squadra non te la smontano la squadra ad Allegri non gli smontano la squadra ad Ancelotti non gliela smontano a Sarri non gliel'hanno mai smontata la squadra perché non gliel'hanno mai smontata secondo voi se della Valencia se non ci avrebbe perché dovete vedere subito 100 milioni perché guardate 100 milioni un presidente suo ah che 100 ho pagato 8 100 milioni godo si fai il bagno nelle banconote perché non lo vende perché non lo vende Coulibaly uno è perché crede in un progetto crede in un progetto che a Roma c'è sempre meno e due perché c'hai allenatori con le palle gli dicono ma perché vendi Coulibaly ma sei scemo ma ti droghi ma fai colazione con la droga ma sniffi lo zucchero gli dicono così probabilmente e quindi Coulibaly resta e quindi Alan resta e quindi Giorgino se ne va via per 60 milioni di euro 60 bombe ragazzi Giorgino se ne è andato cioè ma di che parliamo e la Roma ma ci rendiamo conto che non abbiamo comprato nessuno a me mi sembra impossibile aver fatto un giro di merda un giro di merda di merda abbiamo ripreso giocando di merda a gennaio ok a gennaio di merda un'altra volta non siamo ancora in zona Champions ma poi la cosa cioè noi ragazzi prendiamo una pala prendiamo una pala e scaviamo e scaviamo poi questo concetto me ne parlo domani tanto domani facerò un altro perché uscirà un'altra cosa che mi farà incazzare e farò un altro video sfogo perché così non si può così non si può così si rovina veramente la passione ok ma raga voi tifosi di altre squadre che state vedendo questo video secondo voi la Roma in questo momento è competitiva? secondo voi non avevamo bisogno di rinforze avevamo bisogno di un difensore centrale un difensore centrale veloce una mezzala perché ce n'era bisogno che sapeste fa anche il mediano nel caso la Roma avesse voluto già con il 4-2-3-1 che poi di Francesco il 4-2-3-1 gli fa schifo eppure continua a comprare tra i quartisti e i mediani e un ala forte che si possa definire forte forte più forte di un der forte no non è avvenuto niente di tutto ciò niente niente mercato piatto la Roma che ne aveva bisogno la Roma che avrebbe dovuto dopo il casino che ha combinato ad agosto la Roma avrebbe dovuto fare mercato adesso avrebbe dovuto spendere soldi ora tanto poi sempre sono le cazzate il bilancio il bilancio il bilancio le cazze a posto da 3 anni ok ogni anno bisogna metterlo a posto il bilancio sono d'accordo con te ma hai incassato 30-40 milioni più di quanto hai speso l'ultimo anno ok in più hai preso 100 milioni dalla Champions che fanno da introito ok non prendiamoci per il culo quando vi dicono eh ma noi uno come Conte non ce lo possiamo permettere non è vero non è vero che uno come Conte non ce lo possono permettere è che non hanno voglia di cacciare i sordi perché sperano di poter arrivare al massimo risultato con il minimo sforzo perché se io io do 10 milioni l'anno a Conte ok do 10 milioni l'anno a Conte e Conte mi porta in Champions e mi dà quindi 40 milioni di euro Conte mi fa avere una plusvalenza di 30 milioni di euro un più 30 rispetto a quanto sto pagando annualmente Conte se invece mi tengo di Francesco se vado in Champions cazzo lo pago due ho una plusvalenza ho un un sopraccarico di soldi di 38 milioni di euro ma se non ci vado in Champions se non ci vado in Champions quanto vado sotto ho speso due per Di Francesco in più metti che non avrai hai meno due cioè non vai a più 30 vai a meno due cioè capito quanta differenza c'è capito quanta differenza c'è ragazzi se non vai in Champions ti levano 40 bombe 40 bombe allora ne vale la pena forse fare il grande cambio e voi direte sì ho capito ma Conte ma Conte ti ci viene a Roma no non mi ci viene in questo momento Conte a Roma mercato chiuso mercato chiuso Roma in questa situazione però ragazzi non è oggi non è oggi che la Roma inizia a fare male vabbè poi ne parliamo qua continuiamo a scrivere non so nemmeno se mette muto sull'iPhone vaffanculo fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ragazzi questo periodo è veramente mo shalala e ne come sempre ci vediamo un prossimo video